Ciao a tutti, io sono Ely, benvenuti nel mio canale ASMR Il video di oggi sarà un po' diverso, infatti ci rilasseremo insieme coccolandoci con vari gioiega e suoni rilassanti che ho scelto per voi come al solito sto utilizzando il mio microfono binaurale quindi vi consiglio di indossare un paio di auricolari o cuffie che vi rilasserete in un battito di ciglia dunque direi di iniziare subito con soft tapping quindi dopo aver guardato il mio canale e adesso faccio un po' da un movimento e adesso faccio un po' di più dunque direi diτά e cosa succede? questo è il mio schiavo, il corpo preferito della marca Natures questo in particolare si chiama Beauty Nectar sembravo uccollo tablo Questo è il momento della vita in cui si piaceremo la parte Ok. Ho scoperto ieri questo nuovo trigger. Ok. Devo dire il piacere molto. Ormai utilizzo questo scrub da parecchi mesi e ci trovo molto bene. Lasciamo la penne liscessiva. Grazie. 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 Adesso vado a rimuovere lo scrub. qui. Una cinella d'acqua. Una cinella d'acqua. personalmente adoro i suoni dell'acqua. Lascio qua sopra un link ad alcuni miei video che ho già fatto. con appunto i suoni dell'acqua. con appunto i suoni dell'acqua. esercizi. e le suoni dell'acqua. e le suoni dell'acqua. deve avere un altro mido di acqua. fai per voi il prossimo suono. spray sounds questo è uno dei miei suoni preferiti un po' di più Ok il prossimo suono che vi voglio proporre è questo oggi siamo in tema beauty per così dire questa è una crema mania c'è scritto crema mania idratante e intensiva se faccia di vedere la mia amanda che non si può dare c'è un'altra è un'altra Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.